ciao a tutti e tutte e video per lo swap di ricetta mau mi è arrivato questa mattina il pacco adesso che sono a casa l'ho aperto e ci sono delle cose veramente belle questo è il bigliettino della mia swappina che indovinate un po chi è ricetta mau la carinissima sara e mi ha mandato delle cose veramente belle sono rimasta senza parole e quindi adesso ve le faccio vedere allora per prima cosa faccio vedere la creazione che mi ha mandato che è composta da un bracciale con una sfera piccolina fatta a capriccio mi ha scritto che ispirandosi alla mia bella capriccio ha fatto una pallina capriccina ed è stupenda stupendissima l'adoro mi piace tanto e l'ha fatta con le 15 zero con gli svaruskini vedete quanto è corino e poi con il bracciale fatta terry in bon sempre con le 15 zero e ed è veramente fatto bene cioè questo sembra un laccetto di quelli tessuti invece è fatta il ribon veramente 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 bello io stasera me lo metto subito e lo sfoggio e poi in pandan con il bracciale questi orecchini anche questi bellissimi guardate sono veramente una finezza veramente molto 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 belli poi i colori azzeccatissimi perché insomma sono i miei preferiti poi mi ha mandato delle perle in legno con le quali farò le capriccine e quindi utilissime delle bull aspettate che le apro perché il colore non si vede bene attraverso la carta anzi attraverso la plastica e quindi le apro eccole qui guardate che belle bellissime poi delle coppette altre spere faccio vedere anche queste molto molto belle guardate queste si è capito che il viola è il mio colore preferito ma guardate questo quanto sono carine questa è una bottiglietta una micro bottiglina con delle caramelle incernite che ha fatto sempre lei guardate quanto è bello quanto è carino guardate questo pacchetto regalo sempre fatto a mano da lei veramente veramente bello e poi un cornino che serve sempre e quindi questo lo porterò sempre con me anzi me lo metto nella macchina che ha lo stesso colore che è proprio così nera e arancione azzeccatissima brava e poi queste guardate che belle stupende e infine ma non per ordine di importanza naturalmente dei cabochon fatti da lei in fimo questo è una cabochon in vetro e lei sicuramente sotto ci ha messo penso del che ci ha messo dello smalto comunque l'effetto è fenomenale qua mi faccio un anello strepitoso poi ce n'è un'altra guardate anche questa quant'è bella questo purtroppo con la luce non si vede tanto bene comunque vi assicuro che ha un effetto bellissimo poi 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 quest'altro cabochon infimo anche questo molto bello e questi altri due questo penso con la pebeo sopra stupendo e questo con la spirale la swirl spirale che dire sarà io sono sono contentissima mi ha mandato delle cose veramente 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 belle non ho parole e spero tanto spero anch'io tanto 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 che al prossimo incontro ci sarai anche tu e così ci conosceremo di persona e intanto vi mando tanti 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 baci e alla prossima ciao